Ciao a tutti, benvenuti a Cucina Con Luca, eccoci qua, allora, vermicelli di soia, altra ricetta veramente semplicissima, con le verdure, si può fare con la carne, si può fare con i gamberetti, io le faccio con le verdure, quindi abbiamo della cipolla tagliata a strisciolini, tutto tagliata a strisciolini, cipolla, carota e zucchine tagliate fini a strisciolini, a fiammifero, poi io ho anche una melanzana, io la metto lo stesso, tagliata a fiammifero, poi abbiamo salsa di soia, olio e pepe, abbiamo già un wok qua sopra che sto scaldando e una pentola con l'acqua che bolle, quindi prendiamo i vermicelli di soia, li mettiamo nell'acqua bollente, eccoli qui, gli diamo una girata e li spegniamo, li spegniamo e li lasciamo lì il tempo, ci vorranno 3-4 minuti, nel frattempo ci rosoliamo le verdure, ricetta fast, allora, padella calda, olio, olio abbondato un attimino, mettiamo cipolla, vedete l'ha già calda, l'avevo già fatto scaldare, è importante avere una padella ben calda, quindi alziamo ancora sotto, ok, attenzione che i uochi che andano a fare questo scherzo qua, melanzana, tagliata finissima, anzi, meglio ancora la parte esterna, io ne avevo una piccolina del morto, io le ho messo dentro, vanno bene i peperoni, tutte le verdure che volete, tagliate così fini, le verdure sono provate dopo, diciamo, 5-6 minuti in totale che vanno, e poi salteremo i vermicelli di soia ancora 5-6 minuti, quindi, carote, zucchine, fiamma al massimo e saltiamo, saltiamo e lasciamo così, facciamo cuocere, e dopo potremo continuare la ricetta, i baghetti di soia ben scolati dopo 4-5 minuti in acqua bollente spenta, sono pronti, intanto stiamo continuando a saltare le nostre verdure, guardate che bei colori, e adesso cosa facciamo, aggiungiamo il pepe alle verdure, pochissimo sale, guardate proprio poco, perché dopo abbiamo la salsa di soia, mettiamo giù, spaghetti sempre fiamma, spaghetti, i vermicelli di soia, scusate, sempre fiamma acqua, e saltiamo, adesso andiamo a mettere 3 cucchiai di salsa di soia, 1, 2 e 3, ammazzoniamo e saltiamo, che bei colori, ci siamo, spegniamo, allora, io qua ho dell'olio piccante e ce lo vado a mettere sopra, è anche abbondante, direi che non ci resta, ci resta che metterli nel piatto, prima cosa sono lunghi sono veramente lunghissimi andiamo a metterci sopra le verdure ancora un filo di salsa di soia come si mangiano un buon appetito ciao